Il pezzo di stasera chiedono come... Il pezzo di stasera, Roberto, non lo diciamo o non lo diciamo? Non si dice, non si dice, guardate solo. No, non si può dire, non possiamo, noi siamo spinti di danza e sappiamo che queste cose non vanno dette mai. Una sola domanda volevo farti. Dimmi. Hai delle sneaker? E stasera neanche, neanche stasera. Noi ormai quando entrano gli ospiti guardiamo i piedi, non li guardiamo neanche in faccia. Allora ringraziamo Roberto Bolle che può raggiungere il teatro. Grazie, grazie Roberto. Grazie mille, vado alle prove. A dopo, a stasera. Grazie ancora.